Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco e oggi siamo ancora una volta nella spiaggia di Silviano. Siamo da ieri qua, ci siamo vittuti da un po' di gioini qua, ci siamo prenditi un hotello. Ehm, un attimo solo. Lorenzo ha ragione, guardate, aspetta. Il nostro hotello è un po' più in fondo. Se lo conoscete, lo ha un hotello, ha chiuso, ma forse lo prendiamo. Adio, facciamo vedere un'altra cosa. Allora, lo seguiamo dritto. Oggi, infatti, noi abbiamo, non mi abbiamo ancora fatto vedere, questa spiaggia è il secondo nido. Di qui c'è un'altra cosa, che adesso io, rimani qua, io vado a farglielo vedere. Ok, vedi, vedi, guardate, ecco, un nascondiglio perfetto con le piante. Ma io se usciamo prima che i signori ci raffano le scathe. E poi, si potrebbe essere un po' più in corazzino, ma non c'è dove mettere. Ma, vedete, come vedete, ci sono troppo di cantica. Ti scopri, fatti, fatti. E là, 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 là. Vedi, ragazzi, questa terza parte della spiaggia che si chiamano, finisce qui. No, 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 eh, anzi. E' appena cominciata. E' iniziata da un minuto e trenta. Aspettata. Allora, ragazzi, noi aspettiamo altri due minuti. Perché sta durando troppo poco questo video. Infatti, io so. Dovrebbe durare otto dieci minuti. Io direi, io direi due minuti va più che bene, ragazzi. E quindi... Francesco, levati. Va bene. E quindi, ragazzi, aspettate. Non c'è neanche sui miei video. Ecco, ora si stoppi due. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.